come eliminare un messaggio su android vediamo in questo semplice banale ma al tempo stesso utile tutorial di oggi come si elimina un messaggio un sms su android è molto semplice basta andare nella cartella chiamata messaggi eccola qua messaggi vedete vero ci clicco sopra mi verranno elencati i messaggi che ci sono quelli che sono arrivati per esempio questo qua a firma di maurizio non faccio altro che andare a tenere schiacciato con il mio dito il messaggio tengo premuto una volta che l'ho selezionato mi rendo conto che l'ho selezionato perché diventa di un colore diverso rispetto a quello originario che nella fattispecie concreta è azzurro blu mi apparirà in alto a destra l'icona del cestino vedete vedi a questo punto ci clicco sopra quindi ripeto tengo schiacciato mi appare sopra l'icona del cestino schiaccio l'icona del cestino mi apparirà il messaggio elimina tutte le conversazioni verranno eliminate annulla o elimina chiaramente farò elimina nel caso in cui voglio eliminarlo ecco qua e come avete visto il messaggio è letteralmente sparito bene vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi vi ringrazio in secondis per il relativo ascolto iscrivetevi a questo canale di youtube commentate un saluto e al prossimo video